Egregi colleghi, egregi colleghi, è sicuramente un vantaggio intervenire dopo i relatori sia di maggioranza che di minoranza. I relatori di maggioranza hanno già ricordato quelle che sono le misure che caratterizzano questa manovra. Il relatore Cosolini poco fa ha già dichiarato molto di quello che manca, riprendendo ovviamente temi che abbiamo già discusso in Commissione, direi nel corso di questi cinque anni, perché soprattutto poi vedremo, ma quando si parla di energia è bene ricordare che c'è qualcuno che ne parla da anche più di cinque anni e qualcuno ne parla da cinque mesi forse. Noi ci troviamo a discutere la manovra di bilancio e quindi anche il disegno di legge 183, la legge di stabilità, che è stato approvato il 4 novembre 2022 e prevedeva uno stanziamento di risorse cosiddette manovrabili per 4 miliardi 760 milioni di euro. Il 9 novembre, cinque giorni dopo, venivano trovate ulteriori risorse per 197 milioni di euro. Con gli ammendamenti depositati in Commissione abbiamo avuto un'ulteriore aggiunta di 24 milioni di euro e siamo arrivati, anche se i dati apparentemente non battono, a 5 miliardi e 52 milioni disponibili, ovvero i famosi 295 milioni già ricordati a disposizione del Consiglio regionale in più rispetto a un anno fa. A mezzo stampa abbiamo già avuto la notizia che sarebbero arrivate ulteriori emendamenti e trovate ulteriori risorse, si diceva, per almeno 20 milioni di euro, ma come detto siamo tutti in attesa dei maxi emendamenti che abbiamo visto depositare anche nelle ultime ore e che probabilmente verranno depositati anche nelle prossime ore. Questa manovra e queste risorse in più, leggendo la relazione che accompagna il disegno di legge 183, c'è un qualcosa che in teoria manca, perché spesso e volentieri, quando abbiamo cercato di capire anche come mai abbiamo tutta questa disponibilità finanziaria, l'unica risposta o comunque la principale che ci viene data è ricordare i famosi patti finanziari firmati dal Presidente Fedriga con l'allora governo Conte, uno. Ma in questa relazione dei patti finanziari non si parla, evidentemente i benefici degli stessi devono aver finito prima o poi, perché non possiamo dire che facciamo un assestamento con un miliardo di più grazie ai patti finanziari, non possiamo dire che facciamo una manovra con 5 miliardi e 50 milioni di euro grazie ai patti finanziari, evidentemente ci sono anche altri motivi e questi sono dovuti essenzialmente, come ricorda la stessa relazione, all'aumento dei tributi e delle tasse che noi già un anno fa avevamo previsto e pronosticato rispetto a quelle che poi sono le tabelle che si presentano in una qualsiasi legge di stabilità e che vengono individuati in ulteriori 140 milioni di euro. Questo a giustificazione soprattutto dell'aumento dell'economia, cioè dell'aumento ovviamente delle tasse in più che anche le nostre imprese ma anche i nostri cittadini pagano. Ma quello delle tasse è chiaramente un nodo che stiamo cercando di toccare da un po' di anni e siccome nemmeno di fronte a più di 300 milioni di euro arrivati a questo punto anche con gli ammendamenti, di fatto constatiamo una volta di più che con i documenti a nostra disposizione fino a questo momento non viene tagliato nemmeno un euro di tasse ai cittadini e alle imprese di questa regione. Questo ovviamente noi l'abbiamo anche, avevamo provato con un ordine del giorno a dire anche alla regione guardate che c'è anche un problema di progressività fiscale legata all'IRPEF e all'addizionale IRPEF di questa regione che di fatto è una flat tax che va dai 15 mila ai 15 milioni di euro di redditi tutti pagano la stessa addizionale IRPEF in questa regione, siamo se non l'unico caso in Italia quasi ad avere una situazione simile e infatti per i redditi più alti come ho ricordato anche nella relazione la nostra addizionale IRPEF è anche un terzo inferiore a quella che si paga in altre regioni dove addirittura c'è un 3,30, 3,50% che viene richiesto, noi ne richiediamo l'1,23% una sorta di Monte Carlo che sarebbe anche bene spiegare ai cittadini italiani che magari riescono a trasferirsi in Friuli Venezia Giulia per pagare meno tasse, avere più fondi a disposizione loro ma anche noi come entrate ma non viene sbandierato e non capisco perché. C'è ovviamente in una manovra come questa è sempre difficile entrare nello specifico degli spostamenti tabellari, qualcuno ha parlato di parcheggi prima, ci sono ovviamente delle scelte che vengono fatte e su cui senza avere tutte le informazioni necessarie è difficile anche dare dei giudizi su quelle misure. Faccio un esempio, si possono togliere e aggiungere risorse in un determinato capitolo ma quando si tolgono risorse non si sa se lo si fa per scelta politica, non si sa se lo si fa perché quel capitolo ormai diciamo è già capiente e quindi le risorse sono sufficienti o non si sa se la previsione di spesa era completamente sbagliata e quindi si sono messi più soldi a disposizione di quelli che effettivamente si usano da qui il famoso parcheggio. Tutti quanti ricordiamo dote famiglia che per aiutare le famiglie che hanno difficoltà perché ci sono ovviamente dei limiti di sé molto bassi per accedervi a mandare i propri figli e anche a far fare ai propri figli lezioni private il pomeriggio perché evidentemente la nostra scuola non è sempre sufficiente per la loro istruzione. Abbiamo stanziato 20 milioni di euro al momento attuale impegnati io a bilancio ne vedo 4. Ci sono 16 milioni di euro che sono parcheggiati un po' perché abbiamo iniziato ovviamente diciamo il ritardo nel senso che il regolamento è di quest'estate però tant'è che ci sono 16 milioni di euro che sono stati messi lì e che probabilmente si sarebbero potuti utilizzare in altri modi. Ci sono capitoli dove abbiamo solo voluto prendere ad esempio uno su tutti quello che prevede finanziamenti per la crescita di una cultura di pace e pacifica convivenza tra i popoli tramite la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio in materiale storico e etnografico. Su questo capitolo che è abbastanza attuale anche rispetto al ruolo internazionale di cui parlava poco fa il collega vengono tolti 500 mila euro e vengono azzerati completamente i fondi per questo capitolo che come detto prima dovremmo chiederci se lo si fa per scelta politica se lo si fa perché ormai è ritenuto inutile se lo si fa per altri motivi ma questa è la previsione di spesa per i prossimi due anni zero. Ci sono poi Presidente io ho 20 minuti come tutti ho ancora altri 10 minuti rispetto al tempo che sta scadendo ci sono poi alcune considerazioni che ovviamente si possono fare c'è il tema dell'ambiente sono nove anni che continuiamo a dire che noi abbiamo un problema di bonifiche e di piani di bonifica già approvati ma che se non vengono finanziati valgono praticamente nulla e si aspetta sempre solo che risorse importanti vengono messe dai governi nazionali come è capitato con l'individuazione dei siti cosiddetti orfani e quindi con l'impegno del Ministro Costa dei governi Conte di finanziare queste risorse altrimenti lì non avremmo visto nemmeno un euro messo a disposizione e in questa manovra se prendete il disegno di legge 183 invece di aggiungere soldi per cercare di andare a finanziare le operazioni di bonifica previste per 39 milioni in questa regione invece di aggiungere soldi toglievamo anche il milione di euro che era previsto in spesa poi con un emendamento in commissione evidentemente dopo aver fatto notare questo all'assessore all'ambiente si è fatta già marcia indietro e noi invece riteniamo che si debba mettere se non la prima, la quarta e quindi un po' di soldi c'è il problema del trasporto pubblico locale in questa regione è un problema ce ne sono tanti di problemi che però si dice sempre abbiamo fatto un buon lavoro è tutto a posto poi ci sono persone che aspettano l'autobus perché le corse saltano perché mancano gli autisti senza che nessuno li averta e quando arriva l'autista dopo che sta facendo solo il suo lavoro e che non è 40 minuti in ritardo ma sta portando il bus effettivamente all'ora che dovrebbe in quella fermata viene anche qualche volta aggredito se gli va bene verbalmente se gli va male anche con percosse e quant'altro dei cittadini indispettiti ovviamente di aver aspettato 30-40 minuti sotto la pioggia un autobus abbiamo ovviamente fatto proposte anche in commissione noi speriamo di essere ascoltati perché non saremmo ascoltati noi ma verrebbero ascoltati i lavoratori e operatori e anche utenti di quel servizio ci sono state promesse in questi anni di andare verso un trasporto pubblico locale gratuito quantomeno per gli studenti almeno questa promessa l'avete fatta a tutti i cittadini di questa regione ebbene siamo nell'ultima legge di stabilità di quella promessa non c'è traccia e come detto qualche euro a disposizione c'era abbiamo toccato il tema del fotovoltaico chi dice 100 milioni chi dice 200 milioni facendo il calcolo probabilmente arriviamo anche oltre i 200 milioni tra tutti i bandi messi a disposizione per privati e aziende e comuni e ci siamo voluti soffermare già in commissione con un emendamento proposto su quello che è il bando che era stato intitolato come bando per le comunità energetiche regionali e siamo ormai a cinque mesi da quando è stata varata la norma il bando è stato effettivamente aperto chiuso abbiamo chiesto i dati dei bandi sul fotovoltaico all'assessore in commissione non c'è stata data risposta su quelle che sono le domande pervenute e l'ammontare dei lavori richiesti dai nostri comuni io mi auguro che così come è stato promesso dall'assessore Scocimarro in una udienza che ha tenuto audizione che ha tenuto con i comuni interessati al bando cosiddetto CER dico cosiddetto perché poi alla fine si faranno solo impianti di fotovoltaico per autoconsumo dei genti locali e poche comunità energetiche ma ben venga perché comunque è una produzione di fonte rinnovabile così come ha promesso l'assessore Scocimarro mi sarei aspettato che l'ammontare complessivo richiesto dei comuni venisse garantito già in questa legge di stabilità sono arrivate domande per 55 milioni di euro in quel capitolo ce ne erano 9 milioni prima di iniziare questa manovra ne sono stati aggiunti solo 5 ne mancano altri 40 da dare ai nostri comuni non ad aziende non a privati ma ai comuni per abbattere le loro bollette vedremo se almeno questa promessa verrà mantenuta come detto ci sono varie cose che possiamo aggiungere però è sempre più triste da una parte drammatico dall'altra vedere che ci sono cose dette e ridette in quest'aula che sembra che passino nel nulla e che poi quando però si vanno a leggere alcuni dati si aprono i giornali si vedono certe copertine ci si accorge cose che sono effettivamente all'ordine del giorno e cose su cui un'aula legislativa dovrebbe riflettere se aumentano i morti sui posti di lavoro se aumentano i morti sulle nostre strade se aumentano i rifiuti che noi produciamo se aumentano se c'è una sofferenza idrica e non si vogliono andare a colpire le vere cause della sofferenza idrica che lascia famiglie intere senza acqua come è avvenuto questa quest'estate e altre aziende che prelevano acqua tranquillamente e noi continuiamo ad autorizzare prelevi d'acqua da quelle stesse falde queste sono emergenze oppure no per chi non le vive sulla propria pelle ogni giorno probabilmente no sono fastidi per chi li vive sulla propria pelle ogni giorno non sono solo delle emergenze ma sono delle situazioni che devono essere risolte subito si diceva prima delle bollette noi continuiamo a ribadire che se vogliamo dare un beneficio per le nostre aziende abbiamo una possibilità e lo possiamo fare domani mattina con un emendamento di tre righe si può fare quello che una regione può fare ovvero abbattere l'IRAP che richiediamo a quelle aziende possiamo aiutarle ad abbattere le bollette e lo possiamo fare come? con dei bandi regionali sul fotovoltaico avete approvato una norma l'abbiamo sostenuta nessuno ha mai detto nulla qualcuno l'ha richiesta per anni quella di dare contributi per realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle nostre imprese e non sui campi ma avete fatto una scelta meno di un mese fa che è quella di dirottare quelle risorse in un bando europeo che è esattamente quello che per anni ci siamo sentiti dire da tutte le imprese che è il loro incubo peggiore perché o non possono accedervi o devono chiedere consulenze di parecchie migliaia di euro per accedervi o ovviamente come tutti i bandi poi le gradatorie non sono infinite e per un bando europeo ovviamente è anche un po' più difficile andare a coprire ma soprattutto ci sono le difficoltà burocratiche di tutti i bandi europei come abbiamo visto in questi anni invece di fare una cosa semplice veloce così come è stata fatta con i nostri comuni ricordavo prima i 55 milioni di euro senza neanche un progetto una relazione illustrativa dove c'è scritto più o meno quello che si andrà a fare e vengono riconosciuti i soldi ai comuni stessa cosa si poteva fare magari un po' più accorta ma anche per le nostre imprese e invece si è deciso di spostare tutto a non si sa quando e non si sa quando ovviamente potranno vedere i soldi queste queste nostre aziende chiudo perché ricordavo prima dei dati che abbiamo richiesto in commissione ce n'erano anche altri relativi poi ovviamente anche sulla sanità poi i miei colleghi parleranno ma a me rimane poco meno di un minuto anche degli altri temi che ci sono o non ci sono in questa in questa manovra chiudo dicendo che abbiamo chiesto anche informazioni su altre cose una su tutta era sul progetto dell'acciaieria di San Giorgio Genogaro uno dice vabbè è un'acciaieria sì è un'acciaieria su cui noi però ricordo a tutti cinque mesi fa abbiamo messo 20 milioni di euro senza sapere per cosa per come per quando sappiamo solo per chi quando abbiamo fatto la richiesta di accesso a atti formale per ottenere i progetti le carte i decreti qualsiasi cosa che possa essere a disposizione della giunta regionale anche ad oggi rispetto a quel progetto abbiamo avuto le stesse risposte che ci dà l'assessore Scocimaro sull'ambiente zero io credo che e qui fa piacere che sia tornato anche il presidente Zanin presidente noi possiamo fare il nostro lavoro se l'amministrazione regionale ci mette in condizione di farlo fare gli indovini non è che ci piace ogni tanto ci azzecchiamo però vorremmo essere tutelati anche da lei perché effettivamente il rispetto che si deve dare a un'aula legislativa come questa credo che sia e debba essere massimo da parte di tutti grazie presidente grazie grazie grazie